Amici di Youtube, bentornati da Marco Liguri. In queste ore la storia di Miracle, il cagnolino sopravvissuto all'uragano Dorian ha fatto commuovere il mondo. Voglio mostrarvi una foto di Miracle che vediamo. So già qual è la domanda che la maggior parte di voi si chiederà. Quali sono le condizioni del cane Miracle? Miracle per l'appunto in inglese significa miracolo. Il miracolo è che Miracle sta bene, lo abbiamo visto, è denutrito, ma incredibilmente, miracolosamente, come il nome che è stato scelto per lui, il cane. E in buone condizioni, quindi in una cosa brutta come quella del uracano Dorian, c'è stata una cosa bella, il salvataggio miracoloso del cane Miracle che in queste ore ha fatto commuovere il mondo. Devo dire, anche io mi sono commosso, non sono riuscito a trattenere le mie lacrime dal momento che qui sul secondo canale di Marco Liguri cerchiamo di realizzare dei video dog friendly, quindi siamo tutti amici degli animali, la storia di Miracle. Ciao commosso, io vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi alla seconda canale di Marco Liguri, basterà semplicemente cliccare il tasto iscriviti in basso a destra, attivate la campanella, anch'essa in basso a destra, troverete tutto in basso a destra. Grazie per il vostro prezioso tempo, grazie per la vostra inestimabile visualizzazione. Buon proseguimento su YouTube.